tempi di attesa e di realizzazione infiniti, quindi sotto questo punto di vista va rivoluzionato il metodo, un metodo partecipato in cui si decide di fare le cose ma si fanno insieme ai cittadini e insieme all'amministrazione. Grazie a Cristina Scaletti, Marco Stella. Io non sono, noi non siamo il candidato contro, io sono il candidato per Firenze, è un sistema di mobilità che non ci abbassone, ma se dobbiamo farlo perché non dobbiamo perdere i finanziamenti si faccia, si faccia veloce e si faccia senza danneggiare le imprese, si parla tantissimo di area metropolitana e allora anche nel sistema della mobilità dobbiamo ragionare l'area metropolitana, l'unico sistema di area metropolitana è appunto la metropolitana, quindi noi metteremo ad un tavolo le imprese, chiederemo di riragionare, troveremo i finanziamenti per fare l'unico sistema alternativo che è la metropolitana. Grazie a Marco Stella, a Tidio Armando Trocca. Sicuramente contrario alla costruzione della lì.